Rieccoci qua con minchia ragazzi ho già registrato 20 puntate in una giornata, sto gioco mi ha preso E vabbè dai oggi ho tempo quindi non è che... Oggi ho tempo e quindi c'è da registrare di O-Shock Non so perché questo mi piaccia più degli altri, sarà che hanno reso molto più FPS di prima Anche se diciamo che non mi piace che i giochi li rendano altri Però diciamo che quando un gioco diventa più di azione di solito mi prende di più Ok Io non sapevo se dovevo premere spazio, l'ho premuto lo stesso perché non lo sapevo Madonna, tutto distrutto Ma questa, la ragazza dov'è? Madonna, non è casino affatto questo Ciaff Cosa è un uccello è? Cosa è che non legge la pressione dell'acqua Cosa è che non legge la pressione dell'acqua? Non ho ancora capito la storia di questo gioco Cioè non di tutti e tre di questo che non ho capito dove vogliono andare a parare Sinceramente Se l'obiettivo fosse salvare la ragazza ma la ragazza è già qui A meno che non dobbiamo portarla da qualche altra parte Però non sa sparare Cazzo mi serve Ok vediamo se possiamo andare avanti No, non possiamo Bisogna Godiamoci il video Ok che la ricatturano sicuramente. Vabbè, sarà là sul ponte, se non è sul ponte, è una nuora vita. C'è pochissima vita. Ah no, è là, eh. Non ballo, mica fu il duro, eh. Non ballo. Beh, dove sta andando quel dirigibile? Se vuoi restare a ballare. Andiamo. Porta, muoviamoci. Andiamo a Pari. Facciamo un salto a Disneyland. Disneyland. Cazzo, un mondo di dirigibile. Quando ho visto quel dirigibile mi è venuto in mente il mondo alternativo, cioè il mondo... Cazzo, mi ricordo come si chiama. Quello di Fringe, che c'è... Universo parallelo. Pieno di dirigibili. Sì. Dico che possa prevedere che muore la sua mamma puttana. Sì, danno avanti. Passata avanti lei, va tutto a scatti, va. Dai un'occhiata. L'uccello? O la gabbia. O forse l'uccello. Niente batte la gabbia. Cura questi due. Comunque. Guarda questi, sono incredibili. Quale ti piace di più? Questo qua? O questo? L'uccello è bello e... Quello a sinistra. Sei sicuro? Sicuro. Lo adoro. Tieni premuto? Guarda. Perché il profetto non ha previsto? Eh, è perché un giarlatano. Su quelle braccia. Vita aperte. Da quella è questo. E' il giro. Guarda questo. Questa dannata è chiusa. Vieni a me. Va bene. Che stai facendo? Sei un tipo furbo. Cosa ti sembra che faccia? Fatto. Non ho imparato a forzarvi a essere un'altra. Chiusa in una torre con nient'altro che libri e tempo libero? Ti stupirebbe quello che sono in grado di fare? Eh, sì sì. Cassinare banche. Tranquillo, non te la prestavo lo stesso. Sì, non ce ne frega niente. Influenza torretta automatica dirigibile e patrioti motorizzati. Che cazzo stai qui a guarda? Minchia. Annabelle, sono io, Esther? Oh, no, non sono Annabelle. Sei sicura? Mi chiamo Elisabeth. Ci conosciamo. Elisabeth? Non è un nome adorabile? Sì, sì, dai. È bellissimo. Ultimo cliente. Il parco chiude. Il parco chiude, gente. Chiedo scusa. Già. An queste scarpe farebbe bene una lucidata. Fai attenzione. Ho appena spazzato. Eh, vuol dire che rispazzi. Minchia, oh, ma dimmi te. Eh, eh, eh. Stronzo. Due biglietti per raggiungere il dirigibile First Lady. Eh, un attimo solo, amico. Sì, ce l'ho. Come volete procedere. Sono un po' di fretta, amico. Mmh, ricevute. Ti richiamo quando avremo risolto il problema. Siamo pronti a eseguire. Fermi dove siete! Muovetevi! Cosa state facendo? Prendetela! Toglietemi di nasso! Ma dove cazzo va sta stronza? Da come cazzo ci passi da là? Ma dove cazzo devo andare? Stranatelo col fumo! Stranatelo col fumo! Questo è un topo sono! Stranatelo col fumo! Ecco, sono morto. Ho pochissima vita. Si apri la porta. Sì, se lo credi. È di qua, vero? Sì, è di qua. Oh, che cazzo è sta roba? Ah, è andata di qua. Allontanati da me! Eeeh, che tragedia! Eh! Come se niente fosse? Sei un investimento. E non sarai al sicuro finché non sarai molto lontana da qui. No, non è finita Ehi, se no che cazzo dura mezz'ora il gioco Dai Eh, bene, almeno mi curi quando mi curi il gratis Se devo entrare qua dentro Ok Soldier Field Ma va Ah, mano Ehi, minchia, Superman Buca, era meglio The Wit No, no, vede una vetta va Chiamiamo la navetta Se vogliamo raggiungere il diritto Questo sembra essere il comando Sembra che questo posto funzioni solo con la trappola elettrica Minchia Minchia Minchia, questa prima o poi la vado lì la uccido questa stronza che sta al megafono Porca Eva Dai, muoviti cadavere, porca Eva Via quant'è, madonna Ma sanati la sorella, sanati Ce n'è uno ma non lo vedo Ok ragazzi, comunque in questo video siamo arrivati alla frutta Alla fine, come si dice Come volete dire E niente, per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo